Oggi un contorno Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale oggi come abbiamo detto nell'intro un contorno, ma un contorno della rubrica il cuoco e scatola quindi sì, un'altra puntata del cuoco e scatola, questa volta abbiamo anche l'aiuto di ombretta perché la ricetta volendo è sua e quindi un simpatico contorno veloce e anche economico e anche economico, tra l'altro diciamolo dai cosa sono, cipolline porretane in agrodolce già le vendono pronte ma pronte, uscite dal baratto, le consumate non sono granché, ma con qualche piccolo accorgimento vedrete che contorno gustosissimo spostiamoci sul piano da lavoro e vanno a preparare e benvenuti qui a una nuova puntata del cuoco e scatola oggi lo mettiamo sotto come certe volte, lui non c'è quando c'è lo facciamo lavorare bravo, benissimo oggi grande rubrica oggi faremo le cipolline porretane in agrodolce bravissime, ecco cominciamo meno male che mi hai aiutato cominciamo bene bene, quindi cosa occorre? cosa occorre? naturalmente due barattoli di cipolline porretane queste qua sono della Lidl e sono veramente buone sì, e costano poco più un poco meno di un euro poco meno di un euro sono buonissime sono buonissime già così ma come le fa Gabriele diventano ancora più buone perché lui non sa come si chiama il piatto ma lo sa cucinare ok poi abbiamo bisogno di un cucchiaio di aceto rosso un cucchiaio di olio extravergine di oliva brava sempre quella meno male che ci sei tu poi due cucchiai rasi di zucchero di canna mi raccomando che sia zucchero di canna perché se no ombretta s'arrabbia s'arrabbia no, va bene noi usiamo le zollette io compro queste zollette naturali e poi due cucchiai di glassa gastronomica questa qua di aceto balsamico sì, quella della Ponti è buonissima ci sono di tante marche mi preme dire che questo è un contorno per quattro persone brava è bella dirlo se volete un contorno magari veloce per due persone dimezzate tutti gli ingredienti ma veramente? yes ok, quindi spostiamoci sulla padella in una padella ancora non calda versate il cucchiaio di olio quindi i due battolini i due battolini quindi i due battolini di cipolline già scolate della loro salamoia della salamoia della salamoia e lasciate andare per qualche minuto fino a quando non sentirete soffriggere sentite come soffriggere? io però certe volte lo faccio anche senza olio quando voglio stare più light faccio andare a soffriggere direttamente con un pochino di salamoia delle cipolle vengono anche buonissime certo così vengono più saporite ad onore del vero quindi scegliete voi come farle se riscaldarle con l'olio oppure nature aggiungiamo quindi due cucchiai di glass bella glass bella glassosa eh si è buona va bene così un cucchiaio di glass e un altro cucchiaio di glass bravo basta anche gli altri ingredienti e quindi l'aceto e lo zucchero uno e due e naturalmente facciamo andare il tutto facciamo caramellare gas ora lasciate andare così per qualche minuto fino a quando non vedrete questo liquido di fondo caramellare e addensarsi ancora di più quindi fino a quando insomma non ci sarà più questo gioco che state vedendo va bene e quindi diventerà più denso giusto? ok vuol dire che scivola meno dalla padella scivola meno dalla padella brava brava tu si che conosci il gergo tecnico va bene bene e quindi ci vediamo fra un po' si ci vorranno pochissimi minuti va bene mi raccomando vedete quando le bolle tra le cipolline si fanno più grosse vuol dire che la caramellizzazione sta cominciando sta avvenendo a questo punto Gabriele va di mantecatura ancora un po' eh si che grande gesto atletico dovresti iscriverti ai campionati di mantecatura non mi fate emozionare prima che faccio qualche minchiato no no non si dice anche perché se ti arriva la cipollina incalnescente sulla mano bene come vedete il liquido non c'è più facciamo stringere solo solo un altro pochino e poi inchiattiamo con che cosa può essere accompagnato questo è un ottimo contorno per il pesce specialmente il pesce molto grande tonno salmone noi lo mangeremo con dei filetti di salmone cotti semplicemente al microonde io compro i filetti di salmone suggerati li infilo sette minuti al microonde senza olio senza limone senza niente e vanno poi a fianco accanto tre cucchiaiate però va anche bene con le carni carni rosse carni bianche anche con la carne sta buonissimo certo però se uno con il pesce si fa sempre o l'insalatina o le patatine lesse insomma sempre la stessa roba se uno vuole variare queste ci stanno benissimo bene direi che ci siamo direi che ci siamo impiattiamo allora è messo il nostro tristissimo trancio di salmone sul piatto rendiamolo un pochettino più bello e soprattutto molto più appetitoso con una colata di cipolline e una leggera colatina di salsina bene allora ecco qua vera me ne metto di più ma giusto perché è il piatto per le foto perché poi ah altra cosa non impuzzolentisce l'alito questo tipo di cipolla e quindi noi vi lasciamo alle foto voi andatelo a preparare mi raccomando è un piatto anche piuttosto economico è economicissimo con circa 3 euro fate un contorno per 4 persone contando l'olio l'aceto tutto in proporzione il gas la luce e quindi è veramente economico ma veramente 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 buono saporito davvero bene scattiamo le foto e poi andiamo a fare la papà ciao ciao bene avete visto come è semplice preparare queste simpatiche cipolline anche un incapace come me può prepararle sempre con la voce fuori campo però insomma è facile da fare si fa in due minuti e vi dirò la verità io quest'anno le ho preparate per il cenone di Natale o Capodanno? di Natale? di Natale ma forse anche di Capodanno? non lo so le ho fatte come contorno al salmone e sono venute buonissime sono piaciute a tutti è sembrato un gran contorno e con pochi euro e cinque minuti io l'ho fatto più per i cinque minuti che non per i pochi euro ma comunque anche la tasca piena non guasta è venuto un contorno delizioso che hanno apprezzato tutti quindi provate e poi ci direte bene quindi come ha detto questa fanatica delle cipolline provate e fateci sapere noi ci rivediamo presto sulle vostre tavole state tranquilli perché con questa non puzza l'alito ciao